Musica Guida l'auto per due chilometri completamente ubriaco, zigzagando tra gli automobilisti increduli e alla fine si schianta contro un furgone Anziano investito da un'auto, forse la visuale coperta da un mezzo pesante Al via la campagna di promozione della regione, il CT della nazionale Roberto Mancini presenta le marche A Lido di Fano, lunedì, inizieranno i lavori di sistemazione del sottopasso che per l'occasione verrà chiuso alcuni giorni Salvataggio spettacolare di un capriolo finito nel canale Albania Fano in azione i vigili del fuoco, niente da fare invece per un altro esemplare trovato morto qualche ora prima, poco distante Benvenuti a questa edizione del telegiornale Occhio alla Notizia Ha percorso con la sua auto due chilometri zigzagando e schivando gli altri automobilisti E' accaduto nel centro di Osimo, nell'Anconetano Guardate queste immagini riprese da un cellulare E' stato filmato da alcuni automobilisti mentre procedeva a zigzag a bordo della sua Peugeot l'uomo in evidente stato di ebrezza che ieri intorno alle 13 ha invaso più volte la careggiata opposta Si tratta di un cubano di 46 anni, residente a Filottrano, che si è messo in via Marco Polo all'ora di punta Queste immagini girate dall'auto che seguiva mostrano le manovre pericolose fino alla rotatoria percorsa a contromano in via Flaminia 2 dove per fortuna non stavano transitando altri veicoli Qui l'utilitaria si è fermata ma è ripartita poco dopo alcuni istanti e poi lo scontro con un furgoncino Fiat Ducato Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri della compagnia di Osimo Dagli accertamenti è risultato che il 46enne guidava con un tasso alcolico pari a 1,57 grammi per litro Durante il controllo l'uomo ha dato in escandescenza e ha cercato di opporre resistenza ai militari che lo hanno denunciato per guida in stato di ebrezza, patente ritirata e mezzo sequestrato I sanitari invece hanno somministrato un calmante al cubano che è stato subito trasportato all'ospedale Torrette di Ancona Il lese invece le persone a bordo del furgoncino Un fanese di 88 anni è stato investito da un'auto lungo via Einstein a Bellocchi di Fano E' successo questa mattina intorno alle 8 e 30 Alla guida della Fiat Punto c'era un anziano, anche lui del posto e di 88 anni Quest'ultimo una volta raggiunta la rotatore che conduce in via strada di mezzo a Rosciano Non si è accorto del pedone che stava attraversando la strada Forse era nascosto da un camion che viaggiando sulla stessa via avrebbe coperto la visuale all'altro conducente E' ancora da accertare però l'esatta dinamica del sinistro ma in quel tratto non ci sono le strisce pedonali L'anziano che nell'urto ha battuto la testa sull'asfalto è stato trasportato dall'eliambulanza al Torrette di Ancona Non sarebbe in pericolo di vita ma si attendono gli esiti definitivi In leso invece l'88enne a bordo della Punto sul posto due pattuglie della Polizia Locale di Fano Intervenute anche per dirigere il traffico Sono quattro i decessi legati al coronavirus nelle ultime 24 ore nelle Marche Nessuna delle vittime era residente nella provincia di Pesaro e Urbino Invece i nuovi positivi sono 176 e Pesaro e Urbino rimane la provincia più colpita con 86 contagi Negli ospedali della regione ci sono due ricoveri in meno rispetto a ieri I pazienti in terapia intensiva scendono a 40 mentre quelli in semi intensiva salgono a 80 Con tre persone in più rispetto alle ultime 24 ore Credo che la zona bianca sarà possibile quando raggiungeremo un livello di 50 positivi giornalieri Su 100.000 e oggi non siamo vicinissimi Lo ha detto il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli A margine dell'anteprima degli spot promozionali con il CT della Nazionale Roberto Mancini Sono sempre molto cauto ha spiegato Acquaroli I dati sono in continuo miglioramento però aspettiamo quello che dice il Ministero Credo che nelle prossime giornate potranno esserci ancora delle novità positive Però bisogna essere cauti e soprattutto stare con i piedi per terra L'andamento dei contagi ha permesso un allentamento delle misure Anche nelle Marche da mercoledì il coprifuoco è stato ridotto di un'ora Passando quindi dalle 22 alle 23 Una scaletta, una scelta che piace, piace anche ai fanesi Che sperano piano piano di tornare alla normalità Simona Zonghetti Avanti con le riaperture ma con gradualità Nei giorni scorsi la cabina di regia ha stabilito il piano con nuove orarie e disposizioni Per le attività, molte delle quali fermero mai da mesi Tra le novità c'è quella del coprifuoco che accontenta, anche se di poco, clienti e imprenditori E così da due giorni in tutte le regioni in zona gialla è consentito uscire fino alle 23 Per avere un'ora in più di circolazione notturna bisognerà attendere il 7 giugno Quando il coprifuoco verrà posticipato a mezzanotte Il 21 giugno poi sarà abolito Sempre se il calo di ricovere i contagi continuerà a seguire l'andamento attuale Sono molto contenta anche perché eravamo stanchi tutti E quindi è un piacere ritornare alla vita normale Credo che ce lo meritiamo perché tutto sommato A parte qualche piccola defaianza Insomma siamo stati abbastanza bravi Tutto sommato Deve essere regolato e controllato soprattutto Anche il discorso del coprifuoco serviranno comunque controlli? Controlli, sì, ci vogliono i controlli perché senza controlli i giovani Troppi ammassamenti, troppi, troppi Lei è d'accordo? Più che d'accordo Cioè siamo messi male, male, male Quindi è più che giusto riaprire, riaprire e riaprire Coprifuoco Regolato, però è controllato Da eliminare Però giustamente come dice l'amico Controllato perché qua non si vede più una pattuglia Ste pattuglie fanno servizio solo ai ristoranti e ai bar Non c'è più controlli Per qualche verbale Cioè qui dovevano controllare le persone Chi non ha la mascherina Siete felici pian piano di tornare alla normalità? Assolutamente sì Assolutamente sì, non vediamo l'ora Anche forse un po' poco ancora Ma siamo fiduciosi che la cosa possa andare meglio e migliorando Si potrà uscire un'ora in più la sera A cenare magari anche al ristorante con più tranquillità? Sì certo e non vediamo l'ora perché le restrizioni sono state troppo pesanti Quindi c'è voglia di uscire e anche di spensieratezza Stiamo passeggiando in effetti Siete d'accordo con questa misura che è stata presa? Deve essere abolito secondo voi del tutto? Per me sì, per forza col tempo per forza dovrà essere abolita questa cosa Già un'ora in più è un contentino che ci hanno dato Però all'estate insomma la gente è stanca Quindi per forza di cose o con o senza la gente si stuferà C'è voglia di uscire? Assolutamente sì, soprattutto per noi giovani Stare chiusi in casa è stata veramente dura Quindi si spera di ritornare alla normalità il prima possibile E un'ora in più d'aria da respiro anche agli imprenditori Oggi abbiamo raccolto la dichiarazione di Barbara Marcolini Presidente della Conf Commercio di Fano Che cosa significa per voi imprenditori per tutte le attività economiche Lo spostamento del coprifuoco? Ma assolutamente è una misura fondamentale Perché altrimenti avrebbe creato non poche difficoltà Tutte le attività commerciali Perché non avrebbero potuto fare tra l'altro le aperture serali Perché comunque alle 10 il coprifuoco è assolutamente assurdo Perché comunque poi la gente sarebbe dovuta andare a casa Ma soprattutto essendo la nostra una città turistica Avrebbe creato evidenti problemi anche a livello turistico Turistico perché comunque le persone, appunto i turisti Sarebbero venuti in una città che poi alle 10 doveva chiudere tutto E anche per quanto riguarda tutti gli eventi Perché ricordiamoci che ci saranno anche eventi Sempre nel rispetto delle regole e delle misure sanitarie Ma alle 10 purtroppo, come ad esempio passaggi festival Non si sarebbe potuto tenere nella maniera in cui si è sempre venuto Quindi per noi è importantissimo per far girare comunque la gente Per dare un respiro proprio economico a tutte le attività Che possono essere appunto commerciali di negozi Ma le attività di ristorazione, i bar e quant'altro Quindi abbiamo bisogno di ricominciare, di ripartire un po' alla volta Ma speriamo che venga proprio tolto del tutto Perché abbiamo veramente bisogno di respirare E per chi vuole prendere, come si faceva una volta Il caffè direttamente al bancone del bar Potrà farlo dal primo di giugno Il caffè al bancone del bar dal primo giugno si può E quanto stabilisce il nuovo decreto riapertura emanato dal governo A partire da questa data riapriranno al chiuso i ristoranti sia a pranzo che a Cina E finalmente anche per i bar che fino ad ora si erano dovuti adeguare Col servizio al tavolo anche per un semplice caffè Qualcosa di positivo si muove Soddisfatti i baristi che fino ad oggi non hanno potuto accontentare I clienti del caffè veloce Ancora qualche giorno di attisa E poi tutto tornerà come prima E finalmente almeno una cosa positiva E adesso com'è andata la riapertura con il servizio al tavolo? Non mi lamento Stiamo ritornando ai ritmi dell'anno scorso Prima del primo lockdown E siamo contenti, molto contenti Era ora perché comunque servire tutti i clienti al tavolo Anche la mattina per un caffè veloce Entrano la gente comunque abituata a prenderlo veloce In Italia il caffè al banco e poi va a lavorare Quindi già questa cosa che si potrà servire al banco È favolosa ed era ora Cercheremo di mantenere comunque le distanze E quindi noi faremo i bravi Però basta regole, basta coprifuoco, basta tutto Purtroppo il tempo non ci ha aiutato Perché maggio è stato terribile Ha piovuto quasi tutti i giorni E quando non ha piovuto c'è stato il vento Però dai guardiamo il futuro Pensiamo con positività Speriamo anche per la riapertura alle 23 E poi andare avanti per poter svolgere il nostro lavoro nel miglior modo possibile Ancora cronaca I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio sulla statale 16 Per un'auto ribaltata all'interno della galleria del Carmine ad Ancona La squadra ha messo in sicurezza l'auto Chiudendo le bombole del metano Il luogo dell'intervento sul posto 118 e Polizia Locale Partiranno lunedì prossimo i lavori di riqualificazione del sottopasso a Lido di Fano L'intervento comporterà la chiusura ad intermittenza del passaggio pedonale Proseguono sia a Lido che alla Sassonia I lavori organizzati dall'assessorato all'arredo urbano Per migliorare l'immagine del lungomare di Fano In vista della stagione estiva Annunciato da tempo Finalmente partirà anche l'intervento di riqualificazione del sottopasso di Viale Cairoli Che comporterà in alcune settimane il divieto di transito ai pedoni Proprio da lunedì il cantiere verrà chiuso Dal lunedì al venerdì Per permettere di smantellare quello che è la pavimentazione E posare un massetto Dopodiché da sabato successivo Per circa una settimana Terremo aperti Per far sì che aderisca il massetto Quindi ci sarà la possibilità di passare attraverso Per poi richiudere per almeno due o tre settimane E terminare l'opera L'opera consiste nel rifacimento di quella che è la pavimentazione Comprese quelli che sono gli scivoli La pulizia di tutta l'aria Quindi tutte le parti ammalorate e imbrattate La sistemazione del tetto Perché oggi è abbastanza in degrado anche quello La sostituzione di tutto quello che è l'impianto di illuminazione Con sei nuovi punti luci a led E molto più luminosi E poi installeremo Dulcis in fundo Che è questo l'elemento che darà veramente Caratterizzerà questo sottopasso Come sottopasso del mare Un'opera pubblica Da parte che viene realizzata Per conto dell'istituto artistico Che è diciamo che è una forma di street art Dove verrà valorizzato il tema del mare Sia attraverso un tema pittorico Che proprio valorizzando una poesia in dialetto Di un nostro artista locale E sarà una sorpresa Ma soprattutto speriamo anche Che vengano messe le telecamere Perché altrimenti durerà poco Allora adesso invece Torniamo a parlare Della segnalazione Che è arrivata ieri Da un nostro telespettatore Che lamentava l'erba alta Nel parco giochi Vicino alla chiesa di Metauriglia a Fano Oggi l'assessore Burnori Ci ha fatto sapere Che Aset è già intervenuta Per lo sfalcio dell'erba E che questa mattina È stata fatta partire La segnalazione Per il malfunzionamento Della fontanella Che non eroga più acqua E adesso invece Ci spostiamo Nel quartiere di Sant'Orso Sempre a Fano Dove il gruppo di ragazzi Che aveva rovinato La casetta in legno Ne ha costruita Una tutta nuova Si può sbagliare Ma si può E si deve rimediare Così l'assessore Alla polizia locale Sara Cucchiarini Durante un sopralluogo Alla casetta di legno A Sant'Orso Prima rovinata Da alcuni ragazzi E poi ricostruita Sempre da loro All'interno Sono già stati posizionati I primi volumi Donati dalla Mediateca Montanari Dal Cremi E dalla città Delle bambine e dei bambini Fano Dichiarato l'assessore Sarà tanto più bella Se chi l'abita Vive nel rispetto Di se stesso e del prossimo Ieri è stata posizionata Questa casetta di legno Nel parco di Sant'Orso Che come saprete In questo parco Qualche tempo fa Alcuni ragazzi Avevano dato alle fiamme Una vecchia casetta Di deposito degli attrezzi Che era proprio qui Questi ragazzi Sono stati individuati Attraverso le indagini Della polizia locale E' iniziato con loro E con le loro famiglie Un percorso Per Diciamo Ecco Responsabilizzarli Sul loro Sul loro gesto E' stato un percorso Importante Sicuramente Si è dovuto Intervallare Con il covid Quindi è stato Anche più lungo Di quello Che avevamo Inizialmente previsto Ma è stato Comunque Un percorso Che possiamo Definire Di consapevolezza E in parte Anche rieducativo Molto importante Perché I ragazzi E le loro famiglie Hanno Restituito Alla città E al Comunque E il quartiere Di Sant'Orso Questo manufatto In legno Questo è un bel esempio Per la cittadinanza Proseguito Cucchiarini Il progetto Frutto di un lavoro Di squadra È stato guidato Dalla polizia locale Comandata Da Narita Montagna La casetta Era stata Diciamo distrutta Con i fatti di Halloween Poi di conseguenza Essendo questi legni Catastati a lato Sono rimasti lì Un po' di tempo E alcuni ragazzi Gli avevano dato fuoco Con le indagini Siamo riusciti a risalire A questo secondo gruppo Di ragazzi E con loro È stato bello Poi poter Interagire anche Con le famiglie C'è stata una risposta Perché le sanzioni Non sono soltanto Quelle Poi Amministrative Pecuniarie Ma sono anche quelle Poi di restituire Un po' Di senso civico E quindi Di rispetto sociale E ripristinare Quanto di bello Ci può essere così In una zona In un quartiere I vigili del fuoco di Fano Hanno tratto in salvo Nel tardo pomeriggio Di oggi Un giovane esemplare Di capriolo Finito nelle acque Del canale Albani L'animale ha cercato Per un po' Di salire le sponde In cemento E poi di sfuggire Alla cattura Stremato E con il cuore A mille Si è infine Arreso Sotto gli occhi Di decine di passanti E curiosi Che hanno assistito Alle varie fasi Del recupero Il capriolo È stato sedato Per evitargli Anche il crepacuore È andata Decisamente peggio Invece A un altro esemplare Trovato morto Poco distante Bordi sempre del canale Nella zona vicino Al parco dei passeggi Per consentire Alle squadre Dei vigili del fuoco E del SAF Speleo alpino Fluviale Di Pesero Di recuperare Appunto l'animale La polizia locale Ha interrotto La viabilità Nella rotatoria Del ponte storto Per consentire Ai mezzi di soccorso Di stazionare In sicurezza E poi di consegnare Il capriolo Al CRAS Che è il centro Recupero animali Selvatici Presentati Gli spot Promozionali Della regione Marche Protagonista Il CT Il commissario Tecnico Della nazionale Roberto Mancini Siamo pronti Per una nuova stagione Sono stati presentati Quest'oggi All'interno Di Palazzo Raffaello I nuovi spot Promozionali Della regione Marche Che verranno presto Trasmessi Sulle reti nazionali Protagonista Di questi video Il CT Della nazionale Di calcio E Iesino Roberto Mancini Vi presento Il terreno di gioco Su cui ho mosso I primi passi Qui ogni giorno Scendono in campo Registi Di tradizioni Uniche Bandiere Di una storia Senza tempo Ed io farò di tutto Per farvi conoscere Questa sconfinata Bellezza Perché abbiamo Il potere Di creare emozioni Possiamo far urlare Di gioia Possiamo far Spalancare gli occhi Possiamo far Innamorare Siamo pronti Per una nuova stagione Siamo pronti Per una nuova stagione Le Marche Pronte a farti emozionare Sono questi Gli slogan Dei diversi cortometraggi Che racchiudono Le bellezze E le città Di tutto il territorio Marchigiano Ancora la campagna Non è nota Sarà nota Praticamente da domani Quindi L'effetto Entusiasmo Lo notiamo E sicuramente Anche l'effetto Interesse E poi Speriamo Veramente Incrociando le dita Che si potrà Pure misurare Un effetto Per notazioni Però Oltre all'effetto Per notazioni La speranza È che la nostra regione Possa essere Meglio identificata E soprattutto Riconosciuta E riconoscibile Intorno all'offerta Che noi possiamo Proporre Al mercato Nazionale Internazionale Inoltre Il presidente Francesco Acquaroli Ha parlato Anche della situazione Del turismo Nella nostra regione Dopo nove mesi Purtroppo Di limitazioni Molto forti Lo stato di salute Del turismo marchiciano È L'attesa Per una stagione Che deve dare Una boccata Di ossigeno A un settore Che ha subito Uno stop Pesantissimo Con danni All'occupazione All'economia Veramente Molto Rilevanti Sicuramente La speranza Nella stagione Estiva E soprattutto La speranza In una ripresa Che non vedrà Più stop Così forti E pesanti È quella È insomma È l'elemento positivo Di questo momento Che noi speriamo Di riuscire a sostenere Con la promozione In Italia E in Europa E che speriamo Di riuscire a sostenere Anche con una visione Una progettualità Che possa portare La nostra ragione Nei mercati internazionali E soprattutto Nella via Della destagionalizzazione Abbiamo il potere Di creare emozioni Possiamo far urlare Di gioia Possiamo far spalancare Gli occhi Possiamo far innamorare Siamo pronti Per una nuova stagione L'onedì prossimo Su Fano TV Torna Primo Cittadino L'ospite Di Simona Zonghetti Sarà Antonio Sebastianelli Il sindaco Di Terre Roveresche È tutto Grazie per averci seguito L'informazione Torna domani mattina alle 7 Arrivederci